Cucinare è come amare, o ci si abbandona completamente o si rinuncia. Cari buongustai, ben trovati, guardate dove mi trovo oggi, oggi e devo dire anche domani, in compagnia soprattutto di un amicone che mi fa fare sempre tanti chilometri per venire a trovarlo, perché sono a Castrovillari, e a Castrovillari chi ho, se non il mio mitico Luigi Di Dieco? Troppo onore, ben trovata, ben trovati, a casa tua sempre, mamma mia, ma questa è casa bis, dove siamo? Siamo a Castrovillari, in un lounge bar fenomenale, bellissimo, giudecca, caffè, ben trovati. Bene, non siamo da soli però, non siamo da soli perché quando tu, giustamente, sapendo della mia grande passione per tutto ciò che è Food & Beverage, mi hai parlato di questo grande amico che hai, non solo il proprietario di questo locale, che è Raffaele Chiodi, che ebbe già il piacere di conoscere quando venne a registrare la casa tua, in casa della nonna, e mi hai fatto anche conoscere un'altra persona. Particolare, molto particolare, signore e signori. Eccolo qua. Matteo, esposto. Matteo, esposto, voi tutti, cari amici. Matteo, cosa fai nella vita? Fammi capire, come mai ti trovi qui, dietro il bancone di un lounge bar? In amicizia sono qui, no scherzo, praticamente sono un barman, niente, lavoro per delle aziende, giro, formo, faccio il formatore, quindi. Il formatore è da poco, da poco, cosa scatterà da poco, lo vogliamo dire? No, non lo anticipiamo. No, pesca la manzia. Esattamente. Allora, tu che di cocktail vivi e fai vivere? Sì, sono un alcolizzato. No, assolutamente, vivi facendo cocktail. Anche li beve, chiaramente, anche li beve. Luigi, vero? Io sono della parte degli alcolizzati, no, 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 mi piace gustare. Quando è che vieni tu qui al Giudecca al caffè? Non riesco a star senza. A star senza? A qualsiasi ora, no, torno, ho bisogno di tornare. Va bene, immagino, il motivo è più che valido, perché o tu o chi per te prepara dei cocktail straordinari. Quindi, cari amici, due puntate di A Casa Tua a tutto drink, il drink famoso ormai in versione salsa da nunna, ma oggi abbiamo proprio l'autore, il formatore per definizione, ma vi racconteremo di Matteo nel corso di queste due puntate. Matteo, io ho portato i prodotti proprio clou di questa terza edizione di A Casa Tua per quanto riguarda sicuramente il beverage. Sì. Quindi, direi, un amarotto bergamotto, torna, poi abbiamo anche lo sciroppo di bergamotto, e chi meglio di te poteva realizzare e insegnare ai nostri amici da casa qualche ottima ricetta con questo agrume, il nostro agrume, il re degli agrumi calabresi, che ha tantissime proprietà nutritive e non solo, non solo. Ho scoperto che fa bene irritazioni sulla pelle e cose del genere. Irritazioni, all'infiammatorio, ha più di 350 elementi chimici e addirittura è utilizzato anche, è impiegato adesso in fase di sperimentazione, sembri... Beh, per pure molto, molto, molto importanti. Molto importanti, molto importanti. E poi abbassa i livelli di colesterolo e trigliceridi, quindi non deve mancare, soprattutto chi piace mangiare. E quindi... Un a caso. Un a caso ce l'ho alla destra. E una alla sinistra. E chi piace bere? Allora, drink al bergamotto. Iniziamo così, perché poi ci sarà anche quello con la sarsa da nunna. Ok, perfetto. Ricette d'autore oggi. Ricette d'autore, per voi un drink con cetriolo, gin, che è un distillato di bacche di ginepro, ovviamente il nostro amarotto. Eh sì, dell'Accademia del Bergamotto. Esattamente, succo di lime fresco e soda, acqua fortemente gassata. Adesso lo andremo a realizzare e quindi vedrete man mano il procedimento, in modo tale che anche a casa potrete comunque realizzarlo. Ok, quindi per soda si intende acqua. Acqua fortemente gassata. Sparkling. Sì, sparkling, esattamente. Ok, bene. Esattamente. Mazza che figata. Andiamo a tagliare due o tre rondelle di cetriolo. Ok, che andranno all'interno del nostro bicchiere. Va, due. Abbastanza piccolo. Quindi, del lime. Lime lo tagliamo in un certo modo, nel senso, togliamo le due estremità. Ok. Quindi, togliamo queste due estremità cattive, tra virgolette. Noi che adoriamo il lime, a prescindere, ma l'utilizzo di questo agrume esotico in tantissimi drink, a cosa è dovuto? Eh, perché è simile al limone, è un gusto un po' più forte, un po' più intenso, e quindi riesce a conferire al drink un qualcosa in più, un qualcosa in più. Un qualcosa in più, un corda qualcosina. E comunque, il lime, se vaghi ricordi, sì. Ti ricorda la tua ricetta. Primo amore, non si scorda mai. Primo amore. Cos'è che preparassi nella scorsa edizione di A Casa Tua? Un po' delle tagliatelle spada, un due e il lime. Il lime, certo, certo. Quindi andiamo a pestare, o scusate, a pigiare. Ecco qui. Il nostro succo di lime fresco. Che profumo. Ok. Sì. Pestiamo leggermente, quindi non andiamo a spattolare. No, certo. Comunque a distruggere queste rondelle, in modo tale che poi facciano anche da guarnizione interna. Ok. Ovviamente, ecco qui. Il nostro amarotto. Ok. Ok. Quindi, ecco qui, all'interno. Io ti ho richiesto proprio di utilizzare il più possibile ortaggi e frutta di stagione. Sì, esatto. Perché è importante anche nutrirsi attraverso anche un cocktail, spesso alcolico, no? Esattamente. Ghiaccio tritato, quindi ci avvaliamo il nostro tritaghiaccio per l'appunto. Va bene. Ok. Un attimo di pazienza. Vai, vai, trita, trita. È importante, eh. È importante. Sì, è importante sì. Poi senti che profumo. Straordinario, straordinario. Poi mi chiedi perché vieni qui a bere. È normale, è normale. È come il fatto. Gine. Guarda come si presenta già. Gine. Hai detto che questo liquore è... Distillato. È un distillato. Per l'esattezza. Sì, bacchia di ginepro. Bacchia di ginepro. Ecco la differenza, lo vogliamo dire approfitto, eh. Sì. Tra un distillato e un liquore. Ok, niente, praticamente è la carica zuccherina. Nel senso che un distillato è secco. Il liquore ha l'aggiunta di zuccheri. Quindi, sì, è un prodotto molto più dolce. Una volta miscelato, ok, andiamo ad aggiungere dell'acqua fortemente gasata. Soda, soda, quello che sia, insomma, come si voglia chiamare. Ecco qui. Altra, anzi, utilizziamo questa rondella come semplice guarnizione. Ok. Cannucce. Tovagliolino rigoroso. Arriva, arriva, Luigi. Non so se darlo al pubblico o a loro. No. Faremo le veci. Quindi, praticamente, al momento, a loro. Ecco questo il drink. Bravo, Matteo. Baci, 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 Matteo. Allora, mio caro Luigi, tu che occupi un'altra importante postazione oggi, alla mia destra, con qualcosa da mangiare. Eh, beh, sì, sai, che ho pensato di realizzare. Sì, allora, cosa ci sta proprio bene con questo drink al bergamotto? Che dedico al più grande promotore che abbiamo in Calabria di bergamotto, che è il professore Vittorio Caminiti, e tutti quelli che fanno parte dell'Accademia del Bergamotto. Questi sono prodotti, l'amarotto, dove me l'hai nascosto l'amarotto? Sono prodotti che trovate sul sito internet, che potete ritirare direttamente dal sito internet www.eprodottidelsud.it, lo stesso sito attraverso il quale potete andare a vedere e visualizzare i prodotti al bergamotto, realizzare, perché avete ancora tempo la vostra ricetta con il prodotto al bergamotto che vi ispira di più, e partecipare all'estrazione dei tre vincitori con la ricetta, appunto, dedicata a questo agrume straordinario. Ma tra poco vi ricorderò ancora che cosa vincerà, chi si aggiudicherà il primo, il secondo e il terzo posto. Cosa abbiniamo quindi al drink al bergamotto, che vede anche il lime, vero? Il cetriolo, quindi, oltre al gin, e anche alla soda? Sai, sarà che il verde mi ha ispirato un pochetto, però di fatto potremmo accostare, ecco, della sfilacciata di pollo con salsa guacamole. E l'è già preparata? Sì, beh, è già pronta per esigenza tecnica. Ok, certo, certo. Anche perché questo è un lunch bar. Sì, no, effettivamente non c'è, insomma, somministrazione, in questo caso di food. Ok. E poi, insomma, ovviamente, salsa guacamole con un po' di pacchino, così da poter spizzuliare. Spizzuliare, come si dice dalle nostre parti. E quindi, insomma, facciamo proprio subito. Anzi, io partirei con i comuni. Sì, ok. E poi, ovviamente, ci sono anche le mandorle. Ok. Mandorle d'Avola al bergamotto. Al bergamotto. Eccole qua. Ecco, oggi ha tutto bergamotto perché noi vogliamo mangiare, possiamo combattere naturalmente i livelli di colesterolo e trigliceridi. La capoccia, così ve la stiamo facendo. Però, perché non dovete venire a conoscenza del fatto che in Calabria, nel nostro territorio, esistono prodotti straordinari? E tu che sei un pugliese? Sì. Eh, lo sai questo. Perché in Calabria ci lavori bene o sbaglio? Sono sempre in Calabria. Sempre in Calabria. No, davvero, sono serio. Ti abbiamo adottato. Tu sei originario proprio di? Manfredonia. Di Manfredonia. Eh, vabbè, una bellissima zona. Sì, ridente cittadina. Una ridente cittadina. L'altro cocktail, Matteo, che prepareremo, invece, tra poco è? È una rivisitazione del margarita, del classico margarita. Ok. Praticamente... Che cosa prevede? Sì, tequila. Quindi il tequila, un distillato di agave blu. Andrebbe un liquore all'arancia, triple secco. L'ho sostituito col... Fantastico, a quanto pare. A marotto. A marotto. Perché? Perché comunque... Come l'hai trovato? Dimmi la verità. No, fantastico. Eh? Si adatta perfettamente ai cocktail, almeno per quello che è il mio settore, insomma. Eh, niente, dicevo, ho sostituito il liquore all'arancia con questo, perché è comunque un liquore al limone. Sempre a brumi. Al bergamotto. Quindi, insomma... È un liquore al bergamotto, che in più, rispetto all'arancia e rispetto anche al limone, ha un potere digestivo non indifferente. Sostituite, ok? Esattamente. Quindi, sostituite per quanto possibile. Io, tu mi dicevi prima giustamente, ha nel lime, io lo sostituirei molto bene col bergamotto fresco, avendolo. Però, noi ci troviamo tra la primavera e l'estate, quindi il bergamotto, come tu ben sai, non è di stagione. Esattamente. Bene, come sei andato avanti? Io continuo la mia guarnizione, si vede. Con le mandorle d'avola. Che profumo. Bergamotto, scusami, te ne posso offrire una? Volentieri. Arrivo con... Sì, vabbè, potevi farlo anche con le mani, non ti preoccupare. È una granza al modo. Vorrei essere... Ecco, infatti. Adesso lo utilizzerò per fare i cocktail. Quando avete finito per una guarnizione, grazie, gentilissimi. Ottimo. Mandorle fanno già bene di per sé. Al bergamotto poi, che ve lo dico a fare, insomma... Non posso parlare con la bocca piena. E adesso? E adesso? Adesso parli tu, sì. Quindi, dicevi, quell'altro cocktail preparerai? Esattamente. Inizio con la preparazione, appunto... Dell'altro. Di questa rivisitazione del margarita. Quindi andiamo a freddare la nostra coppa margarita, anzi scusate, coppa margarita per l'appunto. Soda, acqua gasata, per far sì che si freddi il bicchiere. Procedo? Sì, sì. Quindi il nostro mixing tin. Ok, come vi dicevo, tequila. Ok, sostituiamo il complet secco di un liquore all'arancia con il fantastico liquore... L'amarotto. Esattamente. Quindi praticamente... Ecco, non solo potete ritirare questi prodotti al bergamotto dal sito internet, ma potete andare anche nei punti vendita alla degusteria, che trovate centralissimo in Calabria, all'aeroporto di La Mesia Terme, poi a Villa San Giovanni e anche a Reggio Calabria Centro. Sì, sì. Andiamo ancora di lime, questo lime che ci piace molto, molto, molto. Esattamente. Io vorrei fare anche così, guarda, eh. Sì. Mi piace tanto questa parte qui. Ecco, vediamo, vediamo che cosa stai facendo, Luigi. Andiamo a spremere. Beh, all'interno. Una lucina di... Di lime. Di lime, sì. Tanto per ricordare ancora di più il sapore. Ecco, adesso tu tra poco lo andrai a posizionare lì. Sì. Piccola chicca. Sì. Per ricordare comunque il licorare all'arancia. È venuta fuori l'arancia? Sì. Ok, ma ci stanno bene. Sì, come no? Diamo un po' di succo d'arancia, premuta fresca ovviamente. Nel frattempo lo posso poggiare, è vero? Chiedo scusa, chiedo venire, ma è uno spettacolo, bisogna farlo vedere. Ok, guarda, poi gliela darai la ricetta, sì? Sì, beh, certo. Ok, va bene. Ecco qui, quindi premuta l'arancia, fresca, ok, e andiamo a shakerare il frattempo. Quindi una rivisitazione del margherita. Sì, sì, esattamente. Facciamo anche una cosa, piattino, che gentilmente inventerà... Beh, certo, guarda, ce l'hai io. Sì, piattino. Ok, perfetto qui. Sì, intanto io... Lilla che è un colore... Ovviamente margherita sappiamo tutti che è una guarnizione, comunque una crusta di sale, una bordatura di sale. Sì. Quindi andiamo a crearla sul bordo del bicchiere. Quindi da casa, Matteo, stai dando la possibilità di poter reinterpretare allo stesso modo come stai facendo tu, che sei il re, diciamolo. Sì, il re dei drink, dei cocktail. Quindi passate a di lime. Sì, esattamente. Non perdetevi nulla, perché potrete sbalordire i vostri ospiti. I vostri ospiti con un happy hour, magari proprio organizzato in casa, anche perché affiancati ai diversi cocktail realizzati da Matteo Esposto, vedrete delle belle ricette in abbinamento che potrete poi ritrovare sul nostro sito www.acasatua.tv Shakeriamo. Ecco. Ti piace shakerare Luigi? Abbastanza. C'è un Gangnam Style nella testa. Quindi si shaker dalla mattina. Oddio col tormentone. Ha funzionato. Ha fatto un miliardo. Ha funzionato, sì. Tu che fai radio, quanto te lo richiedono? Stavamo dicendo di Gangnam Style, no? Sì. Sai, lui, hanno un gruppo da Manfredonia, proprio di Ultra, che ascoltano quotidianamente il Sound Times. Quindi è una cosa piacevole questa. Sì. Anche questo da un punto in cui... Ah, lo ascoltate? Esattamente. Ok, bene. In FM, giusto? Esattamente. Beh, tutta la Calabria. Tutta la Calabria. Ah. Perché praticamente a metà, come potete notare. Sì. Quindi se una persona vuole utilizzare il sale per cambiare, modificare il gusto del drink, beve da questo lato. Se invece volesse berlo semplicemente, insomma, col gusto suo, col gusto del drink stesso. Va bene. Allora, con il drink all'amarotto al bergamotto e poi con la rivisitazione del classico Margherita, sempre con l'amarotto, che è questo liquore al bergamotto della DC&M che appunto produce questi prodotti al bergamotto. Mi vuoi fornire la ricetta della salsa guacamole con questa sfilacciata di pollo, mandorle d'avola al bergamotto e dei pomodorini? Sì. Ti dai, mi dico la tradizione. Basta effettivamente un mezzo petto di pollo, un cipollotto, poi vabbè, avocado. Un avocado. Sì, che sia laureato da poco perché altrimenti... Un avocado. E poi un po' di sale, un po' di lime per poter mescolare. E un cipollotto, vero? Un cipollotto. Un cipollotto. Va bene. Allora, cari amici, andiamo dritti dritti in pubblicità. Spero voi ci stiate prendendo gusto. Noi sicuramente sì. Tant'è che iniziamo a bere perché poi tra l'altro... Peraltro io ho un po' di sede. Ecco, ok. Allora, ecco, ti pareva che a me toccava sempre mangiare e non bere. Ma no, ma no. Ma lo faccio con piacere. Allora, ci ritroveremo qui tra pochissimo, cari buongustai, dopo la pubblicità per altre due specialità di cocktail, sempre firmati da Matteo Esposto, nel lunch bar di Raffaele Chiodi che salutiamo, insieme al nostro Luigi Di Diego che ci intratterrà con un'altra ricetta proprio d'autore. a tra poco. Cari amici, buongustai, ben ritrovati. sono sempre nell'angolo più suggestivo di questo bellissimo lunch bar che è il Giudecca Caffè. vero Luigi? È uno spettacolo. È uno spettacolo. È uno spettacolo. scusami Luigi. No, no. Corsi di American Bar a Roma, Supper Club, comunque di Molecular Mixology che praticamente sono cose… Il Negroni mangiandolo? Sì, il cocktail. Praticamente lo si rende a gelatina. E come vi permettete ad accogliermi qui e a non… Beh, ma questa è una sorpresa del post puntata. Ah, ok. Io mi auguro che il nostro Raffaele intanto si sia e si stia preparando per farmi assaggiare la cosa che in anticipo mi avete oggi molto carinamente… Credo proprio di… Svelato. Va bene, va bene. Quindi, insomma, fa anche… bravissimo. Certo. Ha una storia anche il nostro Raffaele. Assolutamente sì. E tu, da quanto è che lo conosci? Raffaele dal 2008… Dal 2009. Una cosa del genere. E in particolare che cos'è che vi tiene uniti? Il fatto che tu… Lo stesso lavoro, la stessa passione. Comunque, ci incontriamo in amicizia ma anche per scambi culturali. Certo. Io giro tanto, vedo una cosa, riferisco, lui mi dà le sue impressioni, eccetera, eccetera. Cambi continui tra professionisti. Assolutamente. Allora, adesso, cari amici, andiamo avanti con la preparazione di un altro cocktail. Il cocktail di A Casa Tua. Esattamente. Ad opera di Matteo Esposto. Matteo, che cosa c'è dentro il cocktail di A Casa Tua? Anguria. Anguria fresca. Perché è di stagione. Sì, sì, sì. Tutte le femmini di A Casa Tua amano l'anguria. Ok, anguria fresca. Abbiamo della vodka, del Campari. Abbiamo del succo di lime fresco. Scusa, non è un problema. Ma è un problema al posto. E, ovviamente, ragazzi, sciroppo di? Bergamotto. Esattamente. Eccolo qua. Quindi, procediamo. Ok. Ah, che bello, che bello. Non potevo venire in posto migliore a far realizzare. da Matteo, che tra l'altro ha anche scritto un libro su, proprio, dalla A alla Z, su come diventare... Magicamente. Comparare. Eccolo qua. A lui ce l'ho io. L'avete presente il carosello? Mi sembra. Allocattate bello. Questo è il libro di Matteo. Allocattate bello. Il codice della miscelazione. Matteo, che bella cosa, eh. è realizzare un libro con la collaborazione anche di Antonio Malvasi, mio collega. Parlami un po' di questo libro che è molto, molto interessante. Esattamente. Praticamente è un libro in cui si improvvisa. Si dovrebbe dire... No, scherzo. In pratica si impara a diventare bartender. Bartender è la parola americana sinonima di barman. Quindi è un corso... Bartender. Si esattamente. Eh, è anche dolce come parola. Si fa anche più figo. Eh si. È un corso di American Bar e quindi... Cambia. Ok. Si. Tranquillo. Un giorno riuscirò anch'io. Ok. La cosa bella è che ci organizzano anche spesso dei meeting proprio per corsi con... cioè dal vivo. Ecco ma tu... Dimmi dimmi, dov'è che realizzi dei meeting? Qualcosa dove possiamo apprendere noi che amiamo bere bene e anche realizzare dei cocktail mangiando anche cos'è? Beh, l'ultimo abbiamo. In giro. L'ultimo qui, Castrovillari, sempre a casa di Raffaele Chiodi. Da Raffaele Chiodi. Si perché Raffaele ha praticamente una miriade di locali, tre locali qui a Castrovillari. Quindi al suo locale chiamato Urbantietre. Sì sì. Urbantietre. Dove spesso e volentieri ci vogliamo quei seratoni. Utilizziamo il succo di cranberry. Il succo di cranberry non è quello italiano, è quello americano. La differenza praticamente il succo, le bacche italiane, il mirtillo praticamente hanno bacche più grosse, cioè scusate più piccole e più dolci. Mentre quelle americane sono più grosse. Le avevo viste. Esattamente. Quelle americane sono un po' più grosse, un po' più agri. Infatti il gusto che rilascia alla fine... È un po' più chiare, un po' più chiare. Sì sì sì. Il nostro mirtillo è abbastanza scuro, no? Un viola scuro. Quello invece somiglia più al lampone come colore. Esatto. Esattamente. Quindi andiamo a filtrare, stavolta utilizziamo... Va bene, questo libro scusami dov'è che lo posso trovare? Questa è la mia copia chiaramente. Esatto. Ecco, va bene. Ho appena perso una copia. Ho risolto, ho risolto. No, i nostri amici qualora volessero imparare veramente dalla A alla Z come approcciare al mondo dei barman? Sul mio sito, ovviamente. Sul tuo sito. Qual è? www.matteoesposto.com Matteoesposto.com Occhio alla sezione video, perché delle volte scappano. Dai che sta prendendo forma il cocktail di a casa tua. Rosia. Praticamente, scusate ragazzi, abbiamo filtrato due volte perché? Perché comunque l'anguria lascia all'interno pezzi di polpa, eccetera. E di conseguenza, insomma, per evitare ciò... Va bene. Filtriamo due volte. Filtriamo due volte. Filtratissimo. Tu sei il maestro. Non perdetevi nulla dei preziosi suggerimenti che vi sta dando Matteoesposto. Non è che ne abbiamo uno così a caso nel Giudecca Caffè. Il nostro Raffaele vuole il meglio qui. Il barman di punta del sud e anche in Italia, devo dire, che ci rappresenta benissimo Matteo. È un buon centro avanti. È un buon centro avanti. Senti, c'è guarnizione. Quindi qualità negli ingredienti, qualità anche nei diversi distillati, nei diversi rum, nei diversi cocktail e qualità anche nella realizzazione. Ho ben capito la farfallina, è un tovaglionino. Ecco voi. Ok, tu che cosa invece hai realizzato? Guarda il numero. Eh, son bravo anch'io. Io invece ho preparato un cake, si vedi, con prosciutto cotto, olive verdi. Veni un po' più in qua. Ecco. Vai, vai, lascia pure, lascia pure. E allora dai, fatta. Ok, prosciutto cotto, olive verdi e poi insomma un po' di semi di zucca su, ecco da poter... Che carino, bello. Ma ce la dai la ricetta, si? Certo, ovviamente. Abbiamo pensato di guardare ogni angolo di queste due puntate insieme a questi cocktail realizzati da Matteo Esposto. Ci dice la regia di avvicinarti un altro po'. Sì, eccomi. Ecco, vai. In un certo senso vi diamo anche delle ricette facili, gustosissime, che si abbinano alla perfezione con queste proposte dei tre cocktail che oggi Matteo ha realizzato apposta per voi. Perché sono esclusivi. Esatto. Sono esclusivi. Sono firmati. Matteo. Ok? Ripetiamo, in velocità. Quindi utilizzando l'amarotto che trovate appunto su www.eprodottidelsud.it o nei punti vendita della degusteria. E lo sciroppo al bergamotto. Domani utilizzeremo la nostra, altra, straordinaria passata di pomodoro per realizzare quei cocktail che hanno sentito tante volte nominare da me. Però con il mio si dovevano accontentare di un cocktail rinfrescante o energizzante, tu domani. Stupiremo. Stupirai. Non vorrei dire, ma io ho impiantato, eh. Ah, e voilà, e voilà. Allora, intanto che Matteo mi dà gli ingredienti, recupera gli ingredienti per realizzare questi cocktail che darò io, permettimi, tu invece ci dai gli ingredienti. Prendi in mano il mio tablet. Sì, sì. Vedi che c'è un tablet caruccio. Sì, caruccio. Organizzatissimo. Sì, ecco quello. Sì, però la mostro. Senti, questo cos'è allora? Questo è un plum cake. Sì. Con le olive verdi. Salato, prosciutto cotto, olive verdi e su ha dei semi di zucca. Ok. Sì, vai. Guarda gli ingredienti che devo ricordare che sono 200 grammi di farina doppio zero, 3 uova, 100 millilitri di olio... Questa cosa è ingiusta. ...vergine d'oliva, 120 ml, nel partito da 20, eh, di latte, poi sono 50 grammi di grana grattugiato, 150 grammi di prosciutto cotto, una bustina di lievito, istantaneo ovviamente, e poi ovviamente quanto basta sale e semi di zucca. Ti sei sbrigato troppo presto, non lo posso mangiare. Vabbè, mangialo tu. Dai, io posso me. No, dai, Anna. Mi sento male. Vedo un tablet al mio fogliettino. Vabbè, qui c'è la tecnologia e qui invece c'è la tradizione. Drink al bergamotto, carta e penna cari amici o il vostro tablet o il vostro iPad. Pestare tre o quattro fittini di cetriolo, quattro centilitri di gin o mezzo... Chi significa mago di Oz qui? Nessun problema. Quattro centilitri, andiamo su centilitri. Centilitri, due centilitri di liquore al bergamotto. Ma che cosa significa tre quarti di mago Oz? Eh, la metodologia che adottiamo noi bartender, in pratica sono le once, è un'unità di misura americana. Pensavo ci fosse un pezzo di mago di Oz, invece no. No, assolutamente, è un linguaggio particolare. Va bene. 1,5 centilitri di succo di limone o lime o bergamotto se l'avete fresco, ghiaccio tritato e soda. Sì, riempire il bicchiere di soda. Ok, soda fill, che cos'è? Fill Collins? Fill, derivato da to fill in inglese, riempire. Ah, to fill, fill. Yeah, to fill. Fill, riempire. Riempite, riempite rigorosamente i vostri bicchieri con le ricette realizzate dal nostro barman Matteo Esposto. Improvvisate, perché no, con le ricette che troverete sul nostro sito internet www.acasatua.tv Le ricette realizzate da Luigi Di Dieco in accompagnamento, perché questa è casa sua. Raffaele Chiodi è un suo grande amico, il Giudecca Barra è... Beh, beh, mi vedo più qui che a casa mia, effettivamente. Più qui che a casa tua. Allora, andiamo avanti invece, l'altro è la rivisitazione del Margherita. Esattamente. Ok, 4 centilitri di tequila. Ok, sempre il mago di Oz. 2 centilitri di liquore al bergamotto, 1,5 centilitri di succo di lime, 1,5 centilitri di spremuta d'arancia o, assolutamente no, il nostro sciroppo al bergamotto. Allora, spero e speriamo di avervi fatto cosa gradita. Vi ricordo che potete mandare le ricette al bergamotto a redazione chiocciolacasatua.tv Sta per arrivare la scadenza, ormai siamo arrivati proprio alla capolinea. Mandate le vostre ricette perché chi vincerà il primo premio si aggiudicherà una creazione realizzata esclusivamente per noi di a casa tua, dal maestro orafo Gerardo Sacco con tema bergamotto e con il simbolo proprio dell'Accademia del Bergamotto e poi il secondo premio, attenzione, un weekend al Grand Hotel della Villa di Villa San Giovanni dove soprattutto tu potresti andare a rilassarti un paio di giorni e tu invece che sei degustario. Io andrei dal maestro Sacco, sì. No, ma secondo me anche la cena degustazione nell'evento straordinario dedicato al re bergamotto che si terrà al Borgo Santa Trade il 26 di giugno dove non mancheranno le telecamere da casa tua. Io ti ci vedrai anche molto bene lì. Grazie. O anche voi, perché no. Allora, cari amici, domani ci ritroveremo sempre qui a Castrovillari al Giudecca Caffè Lounge Bar insieme a Matteo Esposto e insieme alle ricette di Luigi Di Dieco. A domani, eh, tante cose buone da mangiare a tutti. Ce ne sono tre, quindi io, non so, vado su quello di a casa tua. Ok, a domani. Ciao, ciao. A domani. A domani. Grazie a tutti.